Un dramma che accomuna due comunità, quella di Padula dove la giovane è deceduto e quella di Montesano sulla Marcellana, il comune di origine del 13enne che ha perso la vita mentre stava trascorrendo ore di relax nella piscina di un agriturismo nella città della Certosa. Cosa è accaduto? Spetterà stabilirlo ai carabinieri della compagnia di sala Consilina. I militari dell'arma sono intervenuti sul posto insieme ai soccorritori, ma l'adolescente era già privo di vita. Il 13enne era in piscina. Dovrà essere stabilita se la morte sia sopraggiunta a causa di un malore mentre era in acqua oppure per annegamento. Mentre i lievi dei carabinieri serviranno anche ad individuare eventuali profili di responsabilità legate alla gestione delle condizioni di sicurezza e vigilanza dell'area piscina della struttura privata.